Eccolo qui Zeman in perfetta forma. Questa mattina a Silvi il boemo ha voluto salutare i suoi ragazzi. Poche parole ma significative. Siete un bel gruppo, siete bravi, dovete e potete diventare una squadra. Ci sono tutti i margini, confido in voi. Domenica Zeman tornerà a Roma ma continuerà a seguire con il cuore il Pescara affidato alla sua vice Buccaro. Sabato il delicato match all'Adriatico contro la Lucchese. Pellacani che ieri lamentava un lieve fastidio alla tendine del ginocchio è rientrato regolarmente in gruppo. Per il match con i Toscani tornano a disposizione Brosco, Aloy che ha scontato la squalifica e Merola completamente recuperato dopo la forte contusione al ginocchio. Rimediata nel match interno con la Spal dello scorso 13 febbraio. A centrocampo sembra scontato l'impiego di Dagasso in cabina di regia con Tugnov e probabilmente Aloy favorito su Franchini. In difesa Floriani, Brosco di Pasquale e Milani. In attacco il tre dente Merola, Cuppone e Cangiano. Verosimilmente Meazzi sarà un'arma importante da utilizzare in corso d'opera come già accaduto con il Pineto. La Lucchese dell'ex Gorgone sarà priva di Capitan Tiritiello, causa squalifica. I Toscani occupano la quattordicesima posizione assieme alla bis Pesaro con quattro punti di vantaggio sulla zona play-out. Da diverse settimane l'undici rosso-nero ha cambiato sistema di gioco dal 4-2-3-1, 4-3-3 al 3-4-3 con l'esperto Gucker centrale. Senza dubbio una novità del trio di difesa completato da Sabbione e dal rientrante Benassai. Prima costruzione affidata proprio al 33enne calciatore austriaco ex Frosinone Pisa. In attacco Gorgone potrebbe schierare Rizzo Pinna, 8 gol e Guadagni a supporto di Magnaghi. In questo caso panchina per Di Santo.